Parliamo di disequazioni fratte quando all'interno di una disequazione esistono delle frazioni con denominatore variabile, ad esempio in questo caso siamo nel campo delle disequazioni algebriche che risultano fratte quando siamo in presenza di frazioni algebriche. Ora, analogamente al caso delle equazioni fratte che potete approfondire in una video-lezione che ho già caricato sul mio canale YouTube un quarto d'ora con il prof e che potete visualizzare cliccando sul link che appaierà da qualche istante qui in alto, potremmo pensare di risolvere tale disequazione fissando le condizioni di esistenza al denominatore, ossia assicurandoci che risulti diverso da zero prima di semplificare appunto tale denominatore. Ma attenzione, nel caso delle disequazioni supporre che il denominatore sia diverso da zero non è sufficiente per la semplificazione che ci porterebbe poi a risolvere una disequazione intera di primo grado. Cerchiamo di capirlo attraverso un esempio. Consideriamo due disequazioni con lo stesso segno di quella proposta nel video, con lo stesso numeratore ma con denominatori numerici. In un caso consideriamo un denominatore positivo, nell'altro un denominatore negativo. Il valore l'ho scelto a caso e osserviamo che nel primo caso è possibile semplificare il 2 e ottenere la seguente disequazione, mentre nel secondo caso, semplificando il meno 2, otteniamo una disequazione in cui abbiamo dovuto cambiare il segno minore che è diventato maggiore perché quando in una disequazione moltiplichiamo il primo e il secondo membro per una quantità negativa dobbiamo appunto cambiare il segno della disequazione e questo è il punto cruciale che ci riporta il ragionamento di prima. Nel momento in cui vado a semplificare il denominatore 2-x pur ponendolo diverso da zero e quindi calcolando delle condizioni d'esistenza, non riusciamo a prevedere in questo modo i casi in cui per determinati valori di x il denominatore risulti maggiore di zero e in tal caso il minore resta il segno della disequazione oppure minore di zero e in tal caso dovrei cambiare il segno della disequazione. Per ovviare a questa problematica, eliminiamo gli esempi che abbiamo proposto poco fa, è possibile percorrere una strada alternativa per la risoluzione di tale disequazione e che riguarda lo studio del segno della frazione algebrica che si trova al primo membro. Con tale operazione che mostrerò tra pochissimo, riusciremo a trovare i valori di x per cui la frazione complessivamente risulta maggiore, minore o uguale a zero e da tali valori potremo dedurre quelli utili a risolvere la disequazione che in questo caso può essere vista come la ricerca dei valori per cui la frazione x più 1 fratto 2 meno x risulta minore di zero. Procediamo per gradi, vediamo innanzitutto come è possibile studiare il segno della frazione in gioco, ossia come è possibile cercare i valori di x per cui tale frazione risulti maggiore, minore o uguale a zero. Dobbiamo innanzitutto porre il numeratore e il denominatore, guardate un po', maggiori di zero. sarà chiaro tra un attimo perché risulta conveniente agire in questo modo. Le disequazioni che vengono fuori da queste due condizioni sono le seguenti e possiamo risolverle agevolmente con pochi passaggi. A questo punto possiamo disegnare un grafico. Eccolo qua che ci permetterà di capire per quali valori la frazione algebrica che abbiamo cerchiato in giallo risulta maggiore, minore o uguale a zero. Allora abbiamo sistemato i termini meno uno e due scelti non a caso, sono infatti i valori che vengono fuori dalla risoluzione delle due disequazioni che abbiamo considerato poco fa. La freccia indica che vengono disposti in ordine crescente da sinistra verso destra e a questo punto inseriremo nelle aree corrispondenti a due righe, una per il numeratore e l'altra per il denominatore, dei segni scelti in modo da rispettare le soluzioni che abbiamo trovato. Partiamo dal numeratore. Osserviamo che per x maggiore di meno uno, andiamo all'origine della disequazione, il numeratore risulta maggiore di zero. Quindi per tutti i valori di x maggiore di meno uno il numeratore è positivo, quindi possiamo inserire due più alla destra di meno uno. Mentre per tutti i valori che non sono maggiore di meno uno il discorso cambia. Per x uguale meno uno l'espressione x più uno si annulla. Noi mettiamo un pallino vuoto per indicare che il valore non è considerato tra le soluzioni. Mentre per x minore di meno uno non essendo maggiore di zero l'espressione risulterà minore di zero. Quindi ricapitolando abbiamo inserito per il numeratore dei meno per i valori di x per cui appunto il numeratore risulta negativo e dei più per i valori di x per cui il numeratore risulta positivo. Siamo sicuri che la soluzione del numeratore, quindi l'insieme dei valori di x maggiore di meno uno, sono appunto le quantità numeriche per cui il numeratore è maggiore di zero perché tale soluzione è relativa appunto alla disequazione in cui abbiamo posto il numeratore maggiore di zero. Analogamente, passando al denominatore, per i valori trovati come soluzione osserviamo che le soluzioni trovate sono i valori per cui il denominatore risulta maggiore di zero quindi per x minore di due vado a inserire dei più quindi nelle zone intercettate alla sinistra del due, ricordatevi che i numeri crescono da sinistra verso destra, mentre a destra di due non essendo positivo il denominatore risulterà negativo. Mettiamo a questo punto un pallino vuoto anche in codispondenza del due visto che non appartiene alle soluzioni della disequazione che abbiamo risolto. A questo punto vi ricordo che stiamo lavorando, torniamo alla nostra frazione algebrica, per studiare appunto il segno di una frazione, ossia stiamo cercando i valori per cui tale frazione risulti positiva, negativa o uguale a zero e questo dipende dai segni assunti dal numeratore e dal denominatore. Se entrambi sono positivi, ad esempio, la frazione complessiva risulterà positiva, se entrambi sono negativi risulterà ancora positiva, mentre se il numeratore è positivo o il denominatore è negativo o viceversa, il prodotto dei segni sarà pari a meno per cui la frazione risulterà negativa. E quindi quello che bisogna fare tra i segni individuati nelle due righe relative al numeratore e denominatore è appunto il prodotto tra i segni che va svolto in colonna. Quindi per x minore di meno 1 c'è in questa zona, meno per più produce come risultato meno, più per più fa più, più per meno fa meno. Riportiamo anche i pallini vuoti e osserviamo che in effetti nell'ultima riga relativa al rapporto n fratto d abbiamo appunto il segno della frazione algebrica studiata nei vari casi, ossia per x minore di meno 1 o per x maggiore di 2 la frazione algebrica assume valore negativo, che vuol dire che sostituendo al posto della x un numero minore di meno 1 o un numero maggiore di 2 la frazione ottenuta risulterà complessivamente negativa, provate per credere, mentre scegliendo un valore compreso tra meno 1 e 2 la frazione algebrica risulterà positiva. Attenzione ai due pallini, in molti libri viene inserito al posto del pallino vuoto o lo 0 o il non esiste, questo perché sostanzialmente la frazione è uguale a 0 quando si annulla il numeratore e quindi meno 1 è uno 0 della frazione, mentre non esiste quando si annulla il denominatore. Io preferisco di solito invece utilizzare i classici pallini vuoti e pallini pieni, in che modo? Nel caso in cui l'uguale non è considerato nella risoluzione delle disequazioni, inseriamo il pallino vuoto, quando sarà considerato l'uguale e solo nel caso del numeratore, perché il denominatore non può essere uguale a 0, considereremo il pallino pieno, ma lo vedremo meglio in un altro esercizio di questa video lezione. Dallo studio del segno della frazione algebrica, noi dobbiamo ricavare i valori per cui tale frazione risulta negativa e, in effetti, tali valori sono definiti dall'insieme dei valori di x minori di meno 1 o maggiori di 2. Ricordo che questo simbolo è il connettivo logico VEL che sta appunto nel ruolo di O, nel senso che una scrittura del genere definisce l'insieme dei valori minore di meno 1 oppure maggiore di 2. Un numero reale non può essere allo stesso tempo sia minore di meno 1 che maggiore di 2. Quindi non confondetelo con il connettivo logico ETH che è una V capovolta. Quindi abbiamo utilizzato lo studio del segno di una frazione per risolvere una disequazione fratta e che possiamo utilizzare ogni volta che abbiamo una disequazione in cui al primo membro è presente una frazione algebrica e al secondo membro è presente lo 0. È fondamentale questa seconda condizione, visto che il segno della disequazione, qui abbiamo il minore ma è analogo al caso in cui è presente il maggiore, ci garantisce la possibilità di cercare i valori per cui una frazione algebrica risulta positiva o negativa ed eventualmente, nel caso del minore uguale e maggiore uguale, anche quando è uguale a 0. Inoltre possiamo applicare uno studio del segno anche a un altro caso che vi mostro subito. In questa disequazione al secondo membro è presente ancora una volta lo 0, mentre al primo membro non è presente una frazione algebrica ma un prodotto tra 1, 2, 3 fattori. Anche in questo caso, pensateci un attimo, possiamo utilizzare lo studio del segno del prodotto posto al primo membro che ci permetterà di cercare i valori per cui i tre fattori in gioco risulteranno positivi, negativi o uguali a 0 e dal prodotto dei loro segni otterremo il segno complessivo e sceglieremo naturalmente, come eventuali soluzioni della disequazione, i valori di x per cui tale prodotto, eccolo qua, risulti maggiore o uguale a 0. In questo caso quindi non inseriremo ND maggiore di 0 per la risoluzione delle disequazioni utili allo svolgimento dell'esercizio, ma date un po' F1, F2, F3, posti in tutti e tre i casi maggiori o uguali di 0 e che indicano rispettivamente il fattore 1, il fattore 2 e il fattore 3. Il maggiore uguale, a differenza del caso precedente, è stato introdotto perché nella disequazione che stiamo considerando cerchiamo non solo i valori di x per cui il prodotto al primo membro risulti maggiore di 0, ma anche i valori per cui risulti pari a 0. Quindi ponendo i tre fattori maggiore o uguale a 0, otteniamo tre disequazioni di primo grado intere che possiamo risolvere agevolmente. La prima non ha bisogno di altri accorgimenti, mentre negli altri due casi otteniamo altre soluzioni. Andiamo quindi a costruire un grafico che in questo caso è costituito da tre valori che abbiamo inserito in alto, 0, 1,5 e 5 ricavati appunto dalla risoluzione delle tre disequazioni in gioco e avrà tre righe con dei segni che andremo a definire tra poco, rispettivamente legate alle soluzioni di f1, f2, f3. Nell'ultima riga andremo a calcolare il segno del prodotto tra i tre fattori. Quindi nel primo caso inseriamo dei più in tutti i settori maggiori di 0, guardate le soluzioni della disequazione, è un meno nella sezione a sinistra dello 0 e un pallino pieno per x uguale a 0, visto che c'è un maggiore o uguale. Nel caso di f2 guardate le soluzioni, inseriremo dei più a destra di un mezzo e dei meno a sinistra, di un mezzo naturalmente, con un pallino pieno per x uguale a un mezzo. Nel terzo caso per x maggiore o uguale di 5, quindi più a destra di 5, meno nelle sezioni a sinistra di 5, è un pallino pieno in 5. Andando a calcolare il segno complessivo nelle quattro sezioni ottenute, otteniamo quanto segue. Nel nostro caso dobbiamo scegliere le sezioni, guardate la disequazione iniziale, per cui il prodotto risulti maggiore o uguale di 0, quindi i valori di x compresi tra 0 e un mezzo o maggiori o uguali di 5. Eccoli qua. Concludiamo con un ultimo esercizio, in cui tra le altre cose vedremo la coesistenza di pallini pieni e di pallini vuoti e un grande ritorno alle frazioni algebriche. In questo caso sono presenti nella disequazione due frazioni algebriche. Capiamo l'obiettivo. Dobbiamo ottenere, per risolvere la disequazione proposta attraverso il metodo dello studio del segno, un'unica frazione algebrica al primo membro e lo 0 al secondo membro. Per questo motivo trasportiamo la frazione algebrica dall'altra parte del segno della disequazione, naturalmente cambiando il suo segno. Guardate, ho anche scomposto in fattori il suo denominatore, perché al fine di ottenere un'unica frazione algebrica al primo membro è necessario procedere con un minimo comune multiplo. E semplificando opportunamente i due termini numerici presenti al numeratore della frazione algebrica, otteniamo tale disequazione che andiamo a riscrivere in alto nella nostra lavagna digitale. A questo punto possiamo disolvere la disequazione ottenuta utilizzando appunto il metodo relativo allo studio del segno della frazione algebrica x-4 fratto x per x-1, osservando comunque che in questo caso al denominatore ci sono due fattori. Poco male, possiamo procedere. Guardate come segue. Per distinguere due fattori li ho chiamato rispettivamente di 1 e di 2 e attenzione il segno uguale è solo al numeratore. Infatti la disequazione proposta risulterà verificata anche per i valori per cui tale espressione risulta pari a 0, che possono essere trovati appunto negli eventuali zeri del numeratore, mentre al denominatore l'uguale non va a posto, proprio perché in matematica una frazione con denominatore pari a 0 non esiste. E quindi risolvendo le tre disequazioni ottenute, la seconda è a posto così, otteniamo dei valori che andiamo a inserire in un grafico. In questo caso ho già inserito tutti i valori opportunamente, potete verificarli premendo sul tasto utile a mettere in pausa il video. Vi faccio osservare comunque che il pallino pieno è attribuito solo in corrispondenza del valore 4, dove c'è il maggiore uguale, mentre negli altri due casi ho inserito un pallino vuoto. E visto che la disequazione è risolta per tutti i valori per cui la frazione algebrica risulta negativa o uguale a 0, otteniamo come soluzione finale l'insieme dei valori per cui x risulta minore di 0 o compreso tra 1 e 4, considerando anche il valore 4 incluso nella soluzione. Eccola qua! Chiaro?